Non si sarebbe trattato di un semplice ma fatale malore perché causato da una mortale dose di eroina venduta da una coppia di Francavilla Fontana arrestata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, città natale del giovane che era rientrato in famiglia per una carissima. Il 24enne, la sera di sabato 8 ottobre, era stato trovato senza vita in un appartamento. In attesa dei risultati dell'autopsia, la procura di Brindisi, titolare del fascicolo, il PM Giovanni Marino, ha ricostruito insieme ai carabinieri, al comando del capitano Vito Sacchi e del tenente Alberto Bruno, le ultime ore di vita del giovane che appunto avrebbe acquistato quella dose letale dalla coppia originaria della città degli imperiali. Di più, le indagini fulmine e dei militari hanno consentito di rinvenire e sequestrare importanti quantitativi di droga, eroina e cocaina, oltre al denaro che avrebbe svelato l'attività di spaccio. L'accusa più pesante però è quella strettamente collegata di morte in conseguenza di altro delitto. In carcere un 32enne e i domiciliari invece la moglie, 28enne, c'è un terzo indagato a piede libero, ovvero un 27enne accusato di omissione di soccorso. Anche su questo bisognerà fare chiarezza con la famiglia dello sfortunato ragazzo deceduto o assistita dall'avvocato Andrea D'Agostino.